Chiarezza sulla percentuale di territorio protetto in Abruzzo per evitare i danni da fauna selvatica attraverso la caccia. Questo chiede alla politica regionale la CR Abruzzo, Associazione per la Cultura Rurale, in Sittin questa mattina davanti al Consiglio regionale all'Aquila. La caccia sembra andata in simbiosi con l'agricoltura. Se viene meno la caccia automaticamente c'è la distruzione dell'agricoltura. Della zootecnia di tutto. La situazione in Abruzzo è drammatica, perché gli animali stanno facendo danni dappertutto, dalla costa fino all'interno. Anzi, addirittura gli animali si spostano a secondo di dove trova il cibo. Abbiamo gli attacchi agli uliveti da parte dei cervi, abbiamo gli attacchi dei cinghiali sulle culture e abbiamo gli attacchi dei caprioli sui vigneti. E poi, infine, abbiamo gli attacchi agli allevamenti da parte di alcuni animali, che non si sa se sono lupi, cani, randaggi o che cosa, ma questi si aggirano nei nostri allevamenti e divorlano ogni notte quello che gli capita. I cinghiali sono diventati più maiali che cinghiali, che si sono riprodotti in maniera esponenziale, dovuto pure a degli incroci con degli animali, dei maiali selvatici che praticamente stavano nello stato del prado. Automaticamente questi si sono ingrociati con i maiali e partoriscono tre volte l'anno. Gli agricoltori parlano anche dell'inquinamento dei consorsi di bonifica che si trovano nelle aree adibite a oasi, quindi dove è vietata la caccia. Oasi gestite da ambientalisti e animalisti del genere, questi praticamente sono diventati veri e propri porcilai. Questi escono, fanno danni e va vanificato quel che è il consorzio di bonifica, diventato una malifica. Questi signori devono pagare come pagano i contadini. Noi paghiamo 200 euro l'ettaro anche se non abbiamo i benefici dovuti. E questa cosa di questi animalisti che si aboliamo la caccia, ma sanno di che cosa parlano. Quindi abolire la caccia vuol dire la distruzione dell'agricoltura. Altro problema sollevato è quello della limitazione della raccolta del tartufo e della sua mancata tracciabilità, che crea problemi di sofisticazione nelle altre regioni. Chiediamo semplicemente che si possa raccogliere tranquillamente in tutto il perimetro del parco il tartufo. Per quanto riguarda invece il tartufo bianco, noi chiediamo che venga tracciato con il DNA per scoprire da dove proviene. E evitare in tal modo che le altre regioni si appropriino del nostro prodotto spacciandolo per loro.